Don Silvio, volire o volare, dice che la varia deve scasare, tra poco scasa la varia. Ma vedi un po' tutta questa popolazione che c'è, il fatto che il messaggio sia molto importante, che poi questa festa addirittura arriva da mille, da decenni, da secoli, no? E credo che se ancora, quei valori che hanno avuto i nostri padri quando l'hanno inventato, io però voglio che dico che secondo me è molto importante, che ci manca un po' il legame intrinseco tra la dimensione religiosa da cui nasce la varia e poi tutte queste manifestazioni. E indubbiamente se queste manifestazioni attirano tanta gente, vuol dire che il messaggio è capito. E penso che forse noi, gente di chiesa, dovremmo domandarci perché questi fenomeni attirano tanta gente e invece la lettera che la Madonna ci dà, ed è sempre attuale, è Gesù Cristo, non è che attira tanto, no? Quando dico non attira tanto, il messaggio di Gesù Cristo intendo dire che non viene messo in pratica. Io mi devo congratulare con voi perché siete sempre presenti e credo che voi siate cassa di presonanza di tutti i valori di cui noi abbiamo bisogno. Complimenti e grazie, vi siete sempre presenti. Grazie. Complimenti e soprattutto un sentimento. La varia è qualcosa che ne ho fatte tante in diversi anni, ma ogni volta non provo altro che commozione. Penso alle persone che non ci sono più. La varia è una festa unica al mondo e lei mi dice che cos'è. Non riesco a dirla perché per me la varia non può essere raccontata. La varia deve essere vissuta e vivere in mezzo alla gente. Vedere queste bambine, gli angioletti, quella bambina sospesa, il padre eterno, è una festa unica. Unica al mondo. Una volta si diceva che la varia dei palmezi adesso non è così. La varia è patrimonio del mondo, è patrimonio dei calabresi, è patrimonio dell'umanità. Siamo insieme a Nola, insieme a Viterbo, insieme ad altre, ai Sardi. Voglio dire, questa ormai fa parte di feste che sono bellissime perché sono uniche, sono irripetibili. Io mi auguro che come sempre, anche questa, che l'ultima è sempre la più bella, anche questa sia senza sconso. Senza sconso. Grazie.